vi parlo del nuovo numero di anti-age, c'è un articolo molto lungo all'interno che ho scritto insieme a Michael, che ha questo titolo, cancellare i ricordi è la vera rivoluzione anti-age. Viene da me una signora e mi dice, sa dottor io proprio non ce la faccio, adesso che ho 53 anni mi sono sposata giovane, ho due nipoti e siccome non lavoro ma ho tanti interessi, mi sono trovata mia figlia che mi ha detto, mamma non puoi occuparti tu per favore dei ragazzi almeno due o tre volte alla settimana. Io precipitosamente ho detto, sì sì va bene, sì va bene, ma sentivo un rifiuto, un grande rifiuto. Dentro di me io non ho voglia di occuparmi dei ragazzi, sinceramente non mi va di passare il tempo con loro, sì vederli una volta ogni tanto, insieme, ma di star con loro, aiutarli a studiare, così. Mi è venuto in mente che la stessa cosa fece mia mamma per me con mia nonna, ma io ho trovato una nonna molto disponibile e sono cresciuta con mia nonna. Mia nonna non si è sognata neanche per un istante di dire, guarda che a me non mi va di star con la bambina. Allora si deve uscire da un'idea portamente malata che noi nasciamo per diventare mamme, genitori, nonne. Noi siamo il mondo per diventare uomini e donne, per realizzare ciò che ti caratterizza. come fa l'inconscio a parlare con te se ogni volta che ti esprime un rifiuto tu li costruisci sopra una cineteca di ricordi, di ragionamenti, di pensieri. L'inconscio voleva dirti semplicemente a me non mi va di fare la nonna, punto. Non stava dicendoti eh ma la tua la tua nonna in realtà ti ha curato, non stava dicendoti che razza di donna sei se non ti occupi dei tuoi nipotini eccetera eccetera eccetera. L'inconscio esprimeva un disagio nel occuparsi dei nipoti, tutto qua. Naturalmente cito questo esempio ma lo potremmo collegare ad altre centinaia di esempi. Se ogni volta che arriva qualcosa che non è convenzionale nel tuo mondo affettivo e tu lo allontani da te, tu non permetti mai all'inconscio di fare la sua strada. bisogna quando arrivano pensieri che non sono omologati, soprattutto quando arrivano nella maturità che è l'epoca più importante della vita e per l'autocoscienza e per realizzare al meglio le nostre doti. Sua nonna un tempo non poteva fare queste riflessioni, doveva dire mia figlia mi chiama, occupi della bambina, eccomi sono qua. Oggi noi possiamo fare ben di più, possiamo dire io rifiuto questo ruolo. Nel momento stesso in cui mi dico io rifiuto questo ruolo, l'inconscio prende decisioni, trova il modo di dirlo meglio alla figlia, trova il modo di coltivare di più i suoi interessi, trova il modo di dirci fai questa vita che ti appartiene a un'altra. Qualcuno di voi dirà, eh ma se sua figlia avesse veramente bisogno e se le condizioni economiche lo richiedessero. Ma nei vostri ragionamenti, impostati così, c'è sempre il blocco delle azioni nitide, spontanee, naturali, emotive e affettive. Una soluzione si trova sempre. A patto che non sia una soluzione in cui ci paragoniamo al passato. A patto che quel disagio che arriva a 50 anni, a 60, a 70, a 80, venga accolto. Francesca mi diceva, dopo la morte di mio marito, io la domenica mi sento sola, sempre sola. Sono passati 5 anni. Mentre durante la settimana adesso riesco a uscire così, io la domenica mi chiudo in casa. Quando c'era con mio marito si è che mi divertivo. È un'ostinazione. La cosa peggiore che puoi fare quando vai avanti negli anni è l'ostinazione. ti ostini alla donna che non sa stare da sola. Ma via via che andiamo avanti nel tempo, il femminile insegna che le donne adorano anche stare da sole. Perché imparano stando da sole che c'è un amico misterioso, qualcosa che le aiuta, che le protegge e che gli fa vedere interessi che ragionando sempre come tutti gli altri, con tutti gli altri, ti costringono a snaturarti. La giovinezza è questa. Andare avanti negli anni è rispettare le tue autentiche inclinazioni che si manifestano a patto che la smetti di avere le opinioni comuni e che ti rivolgi al passato e che cerchi nel passato la risposta. Non c'è mai nel passato la risposta. Buona lettura.